Durante la trentaseiesima puntata del GF VIP 6 Delia e Soleil erano stranamente vestite coordinate, di nero e con maxi fermaglio gioiello tra i capelli. Chi ha copiato chi? Soleil Stasi si conferma una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello VIP, al pubblico piace e il triangolo che si è venuto a creare con Alex Velli e Delia Duran continua ad attirare le attenzioni e l'interesse dei telespettatori. Nel corso della puntata del 21 gennaio uno dei momenti principali è stato proprio l'ennesimo confronto tra i tre. L'attore è rientrato in casa per un faccia a faccia con entrambe le donne, sembra sempre più distante dalla compagna e sempre più vicino alla concorrente del reality. La 27enne questa volta ha messo da parte i suoi amati colori pastello a vantaggio dell'intramontabile nero, scelto anche dalla sua rivale in amore, che lo ama particolarmente. Chi ha copiato chi? Le due donne sono da tempo al centro dell'attenzione del pubblico, dividendo le preferenze dei telespettatori. Da un lato c'è la compagna di Alex Velli, dall'altro l'influencer che è riuscita a insinuarsi nel cuore dell'attore mettendolo in crisi. Tra le due, rivali comprensibilmente non scorre buon sangue, il loro rapporto è teso. Anche le loro scelte stilistiche di solito riflettono una certa diversità. Nel primo confronto televisivo, quando la Duran non era ancora una concorrente del gioco, erano vestita una con un abito in maglia rosa e l'altra con un mini dress aderente con stampa geometrica, bianco e nero. Mentre la modella di origine venezuelana ama molto il nero, che ha sfoggiato in diverse occasioni, l'influencer preferisce i colori pastello e quelli sgargianti. L'abbiamo vista vestita di verde, di celeste, di lilla, di bianco. Come ha spiegato il suo stylist Matteo Manzini, che ne cura l'immagine, non ama il rosso negli abiti asimmetrici. Ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni, kimono, camice, bandane.